La cronaca dei giorni recenti ha riportato ancora una volta in primo piano lo scandalo delle scommesse nel calcio e annesso anche della ludopatia. Cronaca a parte c'è una storia che ci ha colpito, che è la storia di un calciatore che più di dieci anni fa conobbe la realtà del carcere con un'accusa mai sentita prima. Si disse che aveva drogato con dei sonniferi alcuni compagni di squadra per essere sicuro di perdere la partita. Aggiungo che dissero della sua scommessa sulla sconfitta in una partita di campionato. Ed è questa la prima cosa che voglio chiedere a Marco Paoloni. Buongiorno. Buongiorno. Marco, accusa vera o falsa, sonnifero o no nelle bottigliette d'acqua dei tuoi compagni della Cremonese? Ma assolutamente no, poi lo dice una sentenza nel 2019 che mi assolve in formula piena su questi fatti. Adesso, a parte questa accusa che si è rivelata infondata, sembra per certi versi la scena di un film comico di serie B degli anni 70, però in tutto questo viene fuori un'altra realtà. Assolutamente sì. Quale? Viene fuori una realtà che nel 2011, primo giugno 2011, con quella data che mi rimarrà sempre impressa, perché è stata l'inizio della mia fine sia a livello lavorativo che anche a livello di immagine. Perché confessasti di aver scommesso sulle partite? Sì, sì, sì. Anche quelle nelle quali giocavi? No, no, su quelle che giocavo no, assolutamente. Che io scommettevo, sì. Sulle partite che io giocavo, della mia propria squadra, assolutamente no. Ma come si diventa giocatori compulsivi, scommettitori accaniti? Perché poi soprattutto? Bella domanda. Io, avendo fatto un percorso, quello che ho capito è che uno entra in questo mondo virtuale, perché poi alla fine è un mondo virtuale, dove già il calciatore ti parlo che fa una vita moltagiata. Quindi comunque... Vive una bolla in qualche modo. Io direi una vita virtuale, anche lì, perché la vita normale è tutt'altra. Quindi il calciatore non ha valori, non ha valore del denaro, valore affettivo. Quindi vivi in... Beh, non saranno tutti così, però. Non tutti così, che la maggior parte però è così. Diciamo una percezione alterata della realtà. Assolutamente, perché comunque c'hai tutto. E quindi ti porta anche, e c'è anche un discorso molto importante, che il calciatore si sente onnipotente, cioè che può fare tutto e nessuno gli viene a contestare. E tu hai iniziato a giocare dove, come? Io ho iniziato nel 2008, quindi avevo 24 anni, stava ad Ascol in Serie B. Un mio ex collega mi fece vedere questo sito di scommesse. All'epoca anche era... Non facciamo nomi? No, no, un sito illegale. Ecco pure. Però non me l'hanno contestata questa cosa all'epoca. Va bene. E quindi niente, io da lì ho iniziato con il poker, quindi giocavo a poker, poi dopo mi sono messo nel mondo delle scommesse, quindi ho anche giocato. E piano piano, cioè parti dall'1 e arrivi a 10 in breve tempo, perché comunque hai anche una disponibilità economica che te lo può permettere. Senza rendertene conto ti trovi un rischiato. Sono arrivato in una situazione che ero proprio malato del gioco. Che ruolo avevi in campo? Io faccio il portiere. Cresciuto in quale squadra? Io sono cresciuto nella Roma, fino a primavera, ho fatto un anno anche il terzo portiere in prima squadra, l'anno dopo dello scudetto il 2002. E quindi, da una parte il gioco sul campo e dall'altra il gioco invece davanti allo schermo di un computer. E a un certo punto poi diventa una vera e propria dipendenza che viene scoperta anche da tua moglie. Sì. E tu non smetti di giocare? No, io non trovo un'altra via, perché io all'epoca giocavo con il computer, con la mia carta di credito, quindi con i miei soldi, solamente che poi all'estratto conto veniva a casa e la mia ex moglie vedeva tutto quanto. E da lì tante litigate, tante situazioni un po' così. In squadra io avevo due giocatori che conoscevano una persona che aveva un'agenzia di scommessa a Pescara, quindi diciamo un bookmaker, i quali un giorno mi dissero guarda, se vuoi giocare con questa persona senza che fai vedere i movimenti della carta, te la facciamo conoscere. Un prestanome, insomma, una testa di legno come si chiama in gergo. Sì, un bookmaker che appoggiava come è successo adesso con questi casi che sono successi adesso. Quindi niente di nuovo sotto il sole poi alla fine della fiera? No, 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 perché poi c'è tutto un sistema, una piramide che va così da tanti anni, purtroppo poi arrivi in un punto dove poi c'è la malavita, quindi il brutto è quello. Quando è che hai capito di essere malato? Ma non lo capisci, cioè una persona malata non lo può capire subito che sa, perché io... Ma qualcuno vicino? A me mi hanno lasciato da solo, completamente che da solo. Sia inizialmente io ero solo, poi dopo quello che era successo nel 2011, quindi con la squalifica e tutto quanto, mi hanno lasciato solo completamente. Che cosa hai subito a livello professionale? Squalifica? Io a livello professionale ho subito una squalifica, diciamo a livello ordinario, un ergassolo, perché nella federazione più di cinque anni con proposta di radiazione non la possono dare. e ho subito questa ingiustizia che comunque mi ha precluso una carriera e mi ha provocato poi altri problemi familiari. Ingiustizia però scommettevi? Sì, però di bere ho scommesse. Oggi hanno patteggiato sette mesi. All'epoca erano massimo, potevano dare sei mesi di squalifica. Quindi c'è da dire anche il discorso che frettamente, cioè loro hanno emesso una sentenza in 20 giorni, quando il mio processo è durato otto anni. Dopo otto anni qual è stata la sentenza? Io sono stato assolto in formula piena dal tribunale di Cremona. Perché l'accusa, ricordiamo, era? Del Minias, era che io avevo avvelenato i miei compagni. Quindi un'accusa che si è rivelata infondata. Poi voglio precisare pure una cosa, quella partita finì 2-0 per noi e io sono stato il migliore in campo. Ma poi un giocatore, un calciatore che vive lo spogliatoio, è impossibile fare una E in questi otto anni? In questi otto anni io non ho potuto, che non mi sono potuto avvicinare al mondo del pallone perché ero squalificato. Poi 2019 assoluzione, 2022 il presidente Gravina mi rimette e mi dà la possibilità di rientrare, ma oramai... Certo, la frittata è fatta e tutto questo ti ha rovinato, sei finito in manette, purtroppo. Sì, ma guarda, io ho il discorso del lavoro e voglio aggiungere anche che era una passione, perché comunque da bambino poi uno inizia con la passione. Mi fai capire una cosa? Fate un lavoro come noi, che scegliamo, che non è un lavoro, che è una passione. All'inizio pagheremmo noi per fare questo. Viviamo bene tutto quanto, ma come può venire in mente? Rovinarsi una vita, giocarsi gli affetti, perché poi il giocatore perde sempre. In effetti è così, ma in quel momento se sapevo che andava così è normale, se tornassi indietro dieci anni fa avevo 24 anni, quindi il calciatore se ci fa casa a 23-24 anni hanno tutti già famiglia, quindi si sposano, hanno figli. È un mondo diverso e io in quel momento lì mi sentivo onnipotente. Perdonami, non era per giudicare, solo per capire. No, 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 ma ci mancherebbe. Qualcuno ti ha difeso? Guarda, io ho avuto vicino il mio caro amico, avvocato Luca Curatti di Cremona, che mi ha sempre sostenuto, la mia famiglia e basta. È già qualcosa, la famiglia. Eh, ma guarda, a livello mediatico mi hanno fatto tanto male, tanto, tanto. Ecco, questo è il filmato, mentre lui esce, vede. Quando esci, a cosa si riferisce questa casa? Lì quando, dopo 17 giorni, perché ho anche provato questa esperienza del carcere 17 giorni e lì sto uscendo che il jeep che mi manda a casa. Voglio anche precisare che tutti gli altri sono andati alle loro residenze e a me mi hanno fatto stare un mese a Cremona. Senti, parliamo di cose serie ancora di più, del tuo presente e il futuro, perché il futuro si costruisce nel presente. Ti sei disintossicato, sì o no, e com'è la tua vita oggi? Allora, il discorso della dipendenza del gioco, che è stata poi riconosciuta nel 2013, pure questo è molto importante, perché all'epoca non potevo andare a fare un percorso, quindi ho dovuto attendere. C'è stata una consapevolezza, una presa di coscienza successiva anche da parte delle autorità. Detto questo, ti sei disintossicato? Sì? Ad oggi non è più un gioco compulsivo, perché poi c'è da dare... Quindi giochi ancora? Gioca ogni tanto, ma non a livello compulsivo, perché comunque sia... che giocherà una volta ogni sei mesi. Però, cioè, è un lento, costante, graduale... Ma ci ha messo tanti anni, assolutamente, perché comunque non è una dipendenza leggera, assolutamente. È una droga. E questo non è che, come dire, ti esima dalle tue responsabilità. Detto questo, la famiglia, figli? Io ho una nuova famiglia, ho una compagna da dieci anni che devo tutto, perché comunque in questi anni mi è stata molto vicino, perché devo dire... devo tutto a lei, e ho Lorenzo di sette anni e Vittoria di cinque con la mia compagna, e poi ho sempre una figlia con l'ex moglie Giulia di quindici anni, e lì è stato duro, perché lei lo ha vissuto in maniera importante. Però tu devi essere un esempio per loro. Si può sbagliare, si può cadere, ma poi bisogna rialzarsi. E adesso cosa fai? Hai una scuola? Io adesso alleno, sì, alleno privatamente i portieri, e ho provato anche a mandarle a fare qualche provino, devo prendere il patentino da procuratore. E la vita cambia, e a volte si aprono delle nuove strade, da percorrere, come dire, a testa alta. Hai sbagliato? Hai pagato? No, ho pagato troppo, è quello il problema. Ma guarda, non guardare indietro, guarda avanti, perché sennò non esci più. Marco, un bocca al lupo a te e famiglia. Grazie. 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 Grazie.